Penso che Cocteau sapeva anche che un po', anche il contrario, che l'arte è oltre la morte, anche che sopravvive. Effettivamente questa gente non è più in vita qui, però ha esistito forse un'altra realtà durante la proiezione. La prima scena che ho scritto è la scena dove la doma dice all'uomo si è invitato a cenare, non la scopare. Contro la società, contro il matrimonio gay, forse il prossimo, contro il cinema. Il cinema che c'è attorno. Il falso cinema. Grazie. 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 Grazie.